Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A. Siamo con Christian. Ciao Luca, ciao ragazzi. Ciao Christian. Dunque, quando c'è da pagare il conto non finge nemmeno di fare il gesto. Cosa fare? Allora, questo è praticamente un cambiamento sociale che è in corso d'opera, anzi, siccome si è concluso praticamente. Cioè, le donne non pagano più. Nel senso, ragazzi, dimenticatevi, le donne non vogliono più mettere neanche l'euro per il caffè, ok? Lo riscontro, perché ci confrontiamo chiaramente con tanti ragazzi e le ragazze non fanno più il gesto del portafoglio, zero, non esiste più. Esisteva dieci anni fa, adesso è tutto scontato e tutto dovuto, ok? E bisogna anche ricordare alle ragazze stesse, a volte, che magari il budget dell'uomo non è infinito, ok? Perché non capiscono, non ci arrivano. E bisogna stare attenti a non, come dire, viziarle a volte troppo, perché se no è punto di non ritorno, cioè proprio è la fine, ok? Quindi mi ricordo di un mio studente che l'ha gestita molto bene questa situazione e a un certo momento, cioè anche la ragazza della conquista che stava frequentando, dava tutto per scontato, che doveva pagare tutto sempre lui. E lui ha iniziato a dire, guarda, andare in questo posto costa X, ti va bene? Sì o no? Perché così anticipi il problema, sennò loro danno per scontato che sei sempre tu a pagare, no? Come se ogni uomo su questa terra fosse miliardario, cioè obiettivamente pagare tutto e tutto costantemente, ogni giorno, tutti i giorni, e raga, cioè no, cioè nel senso, bisogna anche un attimo, cioè pensare che la vita ha un costo anche per l'uomo, non è che i soldi arrivano dal cielo. Esatto, ognuno deve fare la propria parte. Assolutamente sì. Grazie. Un saluto.